Ben tornati, ben tornati in quel divarano, qui al mio fianco, super Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Che gara sarà questa quella della 300, Andrea? Mentre vado a ricordare che in pole position parte Mora secondo Lusso Terzo Vitali. Allora, dalla 300 ci siamo sempre aspettati il massimo, è quello che ci dimostreranno questi ragazzi, perché sono ragazzi giovani, con un sacco di grinta, con tanta voglia di emergere e di farsi vedere, quindi sicuramente non una gara noiosa. Non una gara noiosa, si stanno intanto andando nell'area tutti quanti i piloti sulla griglia di partenza. Abbiamo sentito Super Nicolusso con una buonissima prestazione secondo, ha detto buone sensazioni in vista della gara. Cristini ha detto ha girato, sono contento perché mi sono migliorato rispetto al weekend precedente, facendo riferimento anche alle qualifiche. Tutto pronto intanto. Tutto pronto. Super Andrea Tomio me lo dice, si spengono i motori, si accendono, ecco la partenza. Guarda lì Mora, super partenza però di Nicolusso, guardalo lì. Andre, grande. Si va a prendere la prima posizione. Sì, sì, subito la prima posizione, ma anche Mora è stato bravo a lasciare i freni e entrare forte nella prima curva per attaccarsi subito a Lusso è stato quello che doveva fare. E infatti è proprio qui, andiamo intanto subito con Cristini, un pilota che ci renderà sicuramente autori di una bella gara, buona inquadratura. Vediamo Lusso davanti a Mora, dietro Lorenzini, ci aspetta una gara, come vi diceva Andrea Tomio, è di lungo. Uh, largo, largo Lusso, largo Lusso, è andato un pochettino largo, però è riuscito a rimanere davanti. La riprende, la riprende Andre, la riprende, allora subito questa bella chicane, mentre andiamo ancora, ah, una caduta, una caduta, non riusciamo a capire in palata, nel senso della parola. C'è il palo che copre il numero del pilota. Ti è caduto, però ti dico subito Andre, si vede già una piccola scrematura tra i piloti, mi rendi, mi dici, dissi anche tu, segno che non sto dicendo una cavolea, una cavolata, una castroneria, mentre i ragazzi vanno a completare il primo giro. Andiamo ancora con Cristini, adesso andiamo poi sicuramente a Nicolusso, anche per capire quella che è la conformazione primo giro con Lusso, Mora, Conte e Lorenzini. Mora, Mora si fa vedere, Mora si fa vedere, ma aspetta ancora un attimo per l'attacco. Chiude bene Lusso, chiude bene, l'idea però è che gli sia lì già col fiato sul fondo. Sì, anzi, mi dà l'idea che Mora abbia voglia di star davanti e forse, forse ha qualcosina in più. Nel caso non è un problema, nel senso che se anche Mora dovesse passare, Lucio si può mettere dietro l'insegnamento. Aspettare e vedere come va, se la moto ne ha di più o se la moto non ne ha di più. Ti ricordo Andre che partiva in pole position, Mora, secondo Lusso, terzo d'Italia, Conte, Lorenzini e Agostini. Vitali ha un po' scompaginato perché dalla terza si trova in quinta. Gli altri, grosso modo, si trovano nelle loro posizioni rispettive, mentre intanto inizia a infervolare. Guardalo lì, forse questo è il momento giusto? Mora all'attacco della X, bello, riesce anche a chiudere bene. Grande sorpasso da parte di Mora nelle spalle di Nicolusso. Anche Conte lo infila, clamoroso. E qui l'hai tirata però, bello mio. No, non gliel'ho tirata. Qua è come uno che prende una sberla, non sa cosa sta succedendo e ne prende un'altra subito. Schiaffo e schiaffone, purtroppo. Quindi qua, o reagisci subito, oppure ti accodi e aspetti e devi aspettare momenti migliori. Nicolusso, mentre sembra che si stiano formando già due coppiette e infatti le vediamo. Abbiamo Mora, Conte, Lusso, Lorenzini, Vitali, ti dico Andre, abbiamo visto anche rispetto a chi poi sta dietro, ad esempio Agostini, c'è già un abisso. Ah sì, 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 anche se in realtà sono passati finitosi, sono passati nel terzo giro. Però già si iniziano a vedere i primi distanti. Si intravedono. Allora ti chiedo già, iniziamo a entrare un po' ad affrontare, ad affondare un po' delle tematiche. Non c'è l'usura delle gomme all'interno di queste gare, vero? Allora, in questa categoria è molto difficile. È molto difficile perché sono moto con poca potenza, sono moto che in realtà non subiscono. Infatti, come abbiamo sentito prima nell'intervista, proprio di inizio. No, era Cristini che diceva delle gomme che addirittura aveva girato più forte con le gomme usate. Eccolo qui Mora, intanto Andre che si sta prendendo un pochettino di spazio. Abbiamo visto che ci sono alcuni piloti che in alcune zone della pista riescono a guadagnare, in altre perdono clamorosamente. Sì, esatto. Intanto completano il terzo giro. Un po' per il discorso guida, come guidano i piloti. Allora, su queste moto bisogna riuscire a farla scorrere il più possibile, perché i pochi cavalli si fanno sentire, quindi più rapido sei in ingresso in curva. Esatto. Intanto Lorenzini alle spalle di lusso sta iniziando a diventare una minaccia in commenti. Davanti Mora e Conte stanno reggendo in maniera importante, si sono creati tre gruppetti, due gruppetti composti da due moto, un gruppetto a sé stanti di Vitali che è là dietro che aspetta. Io non so se Vitali stia aspettando perché ne abbia, oppure perché sta studiando i piloti, oppure se proprio non ne ha ed è quella la distanza che riesce ad ottenere dai anche. Però, se ti inizi a avvicinare così, magari da qua a un giro potrebbe essere. Qualche dubbio c'è, eccolo qui. Qua adesso inizia a essere vicino, inizia a essere vicino. Ci sono i margini, Andre? Potrebbe, potrebbe, potrebbe. Eh, lungo. Grande ingresso, Andre. Ce la fa tenerla? Ce la fa, ce la fa. Bellissimo. Questo è il sorpasso d'applausi da parte di Cristini su Fortini. Bellissimo il sorpasso. Mentre si sta scavando un piccolo solchetto. Sì. Mora su Conte. Sei d'accordo, Andre? Assolutamente sì. Penso che ormai ci sarà più di un secondo e mezzo o due tra l'effetto dei primi due. No, forse no. A vederli così, no, no, no. Sembrava di più dall'onboard. Come diciamo, ci sono delle zone di pista dove c'è un distacco che è molto più ampio. Ci sono altre zone dove c'è, non c'è questo distacco ampio. Guardalo qua, Nicolusso. Mentre stiamo, stiamo iniziando il sesto giro, quella che è una gara tutta da vivere. Gara? Io ve lo dico. Andrea Tomi non è un ragazzo che non ne sa. L'ha detto, queste gare sono a cardo parco. E sarà una gara a cardo parco secondo me. Secondo me sì, dai, ci auguriamo di sì. Anche perché sono, sono belle proprio perché si equivalgono molto le potenze delle moto. Non sono così distanti come ad esempio in altre categorie. Esatto, esatto. Perché è quel divario importante. Quindi la differenza la fa chi è più allenato, chi riesce a reggere fino al dodicesimo giro e attaccare fino alla fine. Quindi questa è la parte attenzione. Ragazzi, eccolo lì. Eccolo lì. Infilato Nicolusso da Lorenzini. Ha trovato un pertugio. Si è infilato Lorenzini. Adesso bisogna capire se Nico vuole aspettare, capire se ci sono i margini per riprenderla o non riprenderla perché non ne ha. Adesso lo scopriremo. Ricordo, te lo ricordo che Lusso parte in seconda posizione. Qui siamo nella lotta che infermora per il sesto posto tra Agostini, Iotti e Capocasale. Con Iotti che è settimo, Agostini sesto, ottavo Capocasale. Mentre si è ultimato il sesto giro e si entra nel settimo. Andre, sorpasso tecnicamente bello. Quello a quale abbiamo sentito da parte di Lorenzini su Lusso. Assolutamente. Perché Lusso non gliela mica volevano andare a vincere. No, no, no. Poi lì è anche un punto dove non c'è tantissimo spazio. Quindi è stato molto bravo, ma ha fatto bene perché se ne ha di più e vuole provare ad andare a prendere Conte doveva trovarsi spazio, farsi spazio. E ci ha riuscito evidentemente. Scicani intanto. Non è lontano comunque. No, però quei due lì davanti mi sembra che stanno iniziando a cercare di dire. Bisognerebbe guardare un po' i tempi che stanno facendo in gara. Adesso vediamo perché purtroppo noi qua non abbiamo i tempi in diretta. Non avendo i tempi in diretta non riusciamo, però ti dico che a occhio e croce è bellissima questa inquadratura. Bello, bello, bello. Guarda qui Andre. Sì. Però c'è un allungo sicuro davanti mentre andiamo con Nico Lusso e a me sembra che Nico abbia perso qualcosa. Ah sì. Mentre si chiude l'ottavo giro. Uh, e qua che è successo. Ah, guarda Mora. Bandiera blu. Secondo bandiera blu. Bandiera blu vuol dire che c'è un doppiato. Quindi quando c'è un doppiato è sempre un problema in fase di sorpasso. Perché se il doppiato si fa subito da parte, è bene. E se no ti fa perdere quello spazio che dietro, se qualcuno ti prende la scia, diventano cavoli amari. Esatto. Quindi guarda, il problema doppiato, per questo ci andiamo ad allacciare al discorso. Eccolo lo scavalca. Però se te lo trovi qua sul rettilineo è un conto. Mora che va ad affrontare l'ultimo giro. L'ultimo giro, sì. Lo stacco con Conte c'è. O qui Conte inizia veramente a provare a battagliare, a darsene di santa ragione, o ormai finiscono primo, secondo e terzo Mora Conte. Lo vedo un po' lontano Mora per Conte. Quindi io penso che Mora debba soltanto gestire e portare a casa una vittoria meritata. Ma tu a quali pilota gesti tu? Ah, oggi in MotoGP. Se dovessi avvicinarti ad uno di quelli che... Ma secondo me il riferimento oggi in MotoGP è questo che sembra che c'è il pilota più estremo, il pilota che ha portato in livello del MotoGP. Lo stavo vedendo come è fatichino adesso comunque. Sì, attenzione, attenzione, attenzione. E Cristini? No, non ci credo. È stato passato Cristini e siamo con Nicolò. No, no, non penso. Penso che siamo con Cristini. Sai che forse quello davanti è Trombin? Forse. Cristini scavalcato da Trombin. All'ultimo giro. All'ultimo giro. Cristini che era tranquillo e non a posizione. Tranquillo mica tanto, perché Trombin ha fatto un'ottima risalita. Si vede che Cristini è un po' mollato. Adesso vediamo se infermono la lotta per il nono posto. Cerchiamo anche di capire. Andiamo ad indugiare con le immagini che ci devono per forza aiutare. Mentre vince Mora davanti a Conte. Sai che si sono avvicinati molto. Esultano tutti e tre. Mora, Conte e Lorenzini. Esulta un po' meno lusso. Bentornati sempre dal circuito di Varano. Qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. 125 Andre. E moto 4. Sarà una gara interessantissima. Tantissimi piloti in aste di partenza con campagna in pole position. Galloni secondo si accendono. I motori si spengono. Via. Parte la gara. Naturalmente Andre come sempre cerchiamo un attimo di capire quale sarà l'incastro perfetto, giusto, corretto, esatto. Da parte di questi ragazzi ti ricordo volante campagna partiva in pole position. Galloni secondo, Tribuzzi terzo, quarto Fusto, quinto Balboni, sesto Tartoli che ha detto molti problemi. Intanto siamo. Con campagna che non ha avuto un buono spunto Andre perché stava in seconda posizione e partiva in pole position con il tempo di 1.17.766. Qui Mattei che cerca subito di battagliare. Siamo in settima posizione circa. Sì è settimo Mattei in questo momento. Andre tempi molto alti queste moto sono molto più leggere. Sono molto molto più leggere e molto meno potenti. Quindi sono molto meno performanti. Mentre Mattei prova subito a sorpassare in maniera abbastanza interessante il diretto pilota Jacopo Tartoli che si trova in sesta posizione. Ricordiamo che nelle classiche interviste per gara Jacopo non si è detto molto soddisfatto. Ha detto abbiamo avuto problemi nostri con la nostra moto. Non sono pienamente contento di ciò che è stato fatto. Mentre qua vediamo già veleggiare. Penso che sia Galloni con numero 7 davanti e campagna alle spalle. Galloni che era partito in 1.17.984. Poco meno di due decine di distacco dalla pole. Adesso a primo raffronti manca fare un po' di considerazione. Esatto. E appunto vediamo in prima posizione Galloni che sta anche imprimendo un buon ritmo con campagna alle spalle. Balboni, Paolucci, Mattei, Tatoli. Eccolo qui Mattei che sta cercando di inserire Balboni. Anzi Paolucci per la quarta posizione. Ecco anche qua ti chiedo Andre. Degrado gomme. No qua no. Qua zero vero? Zero zero. Cioè qua si partono con delle gomme nuove. Sembra come arrivano. Sì senza nessun tipo di problema. Sono moto davvero con pochissimi cavalli. Si parla di una trentina di cavalli. Problemi di degrado gomme non esistono. Però è particolare Andre una cosa. Come stia scappando via Galloni quasi ad imprimere un ritmo completamente differente rispetto agli altri. Alle spalle campagna sta veramente facendo fatica. Nonostante fosse partito in pole position. Ti chiedo è normale? È una cosa giusta? O magari c'è qualche problema di grip? Qualsiasi... Allora bisognerebbe... Anche a secondo giro se ci possono problemi di grip? vuol dire che c'è un problema in partenza. Esatto c'è un problema in partenza. No io penso solamente una buona partenza. Qua il problema di queste categorie è che se tieni la scia quindi che sei tutti vicini riesci a tirarti l'uno con l'altro. Se prendi dei metri succede... Eccolo gran passo da parte di Mattei su Balboni che va a prendersi di forza la terza posizione. vediamo se riesce poi a completare il passaggio che perché c'è poi un dritto... Eccolo e viene rinfilato Mattei ma questi... Uuuuh... Altro grande controsorpasso da parte di Mattei. Andre bello qua in questo caso. Mattei si mette terzo con Balboni alle spalle. Dopo vedremo se Balboni sarà riuscito. Mi sembra che si sta andando in una gara e la gara. La gara per il terzo posto ma i primi e i secondi si sono cristallizzati. Mi sembra che riesca a campagna ad andare a farlo. Eh no perché infatti come dicevo prima il problema di queste moto che hanno più o meno potenze uguali. Parlo delle moto 4. E quindi andare poi a riprenderli quando hai così di stacco di 100-200 metri è difficile. È molto difficile. Qual è la differenza tra una moto 4 e una SP? Allora la differenza sostanziale è intanto che le moto 4 sono quattro tempi mentre le 125 SP sono due tempi. le 125 SP sono moto che correvo io un po' di anni fa. Oh e c'è sempre un momento a Marco. Eh a Marco c'è sempre. E sono moto diciamo di un'altra epoca però le continuano a far correre qua all'interno perché più o meno come dicevamo a livello di cavalli si equivalgono molto. La performance poi è molto simile. Viene ultimato il terzo giro. Intanto andremo nel quarto. Galloni sempre davanti con campagna alle spalle. Balboni Mattei Paolucci Tribuzzi. Bellissima questa inquadratura dall'alto. Andiamo con Tatoli che gode davanti del passaggio di Tribuzzi su Paolucci. Se ci riesce non ci riesce. Buono chiude bene. Tribuzzi su Paolucci mentre Balboni e Mattei intanto davanti stanno cercando con un po' di spettacolo di contendersi la posizione forse qui. Mattei lo infila sì. Vediamo se riesce poi a chiudere in curva. C'è riuscito. C'è riuscito. Ci hanno abbandonato le nostre camere ma dovrebbe esserci riuscito mentre Galloni e Campagna fanno veramente un altro sport. Andiamo live con Campagna che non riesce nemmeno ad avvicinarsi a Galloni. E qui effettivamente hai ragione tu. Se non hai un traino se non riesci a creartelo. Non ce la fai. A meno che la tua moto non è più veloce. Eh ma sono ripeto sono troppo simili queste moto tra di loro. Mamma che confusione lì alle spalle. Andre qui la lotta per il terzo posto clamorosamente come se avesse fatto un tappo. Ci fosse un tappo. Eh sì. Guarda siamo andati. Abbiamo visto prima di nuovo Campagna. Se i nostri ragazzi della regia indugiano poi sulla lotta al terzo posto. Ma è come se avesse creato un tappo Balboni e quel tappo fossero state risucchiate tutte quante le moto. Eccoli qua. Guarda in quanti sono Andre. Ci sono praticamente tutti. Sì. Campagna un pochino si sta avvicinando. Di là confusione al massimo indietro. Il bagarre totale. Allora c'è Tribuzzi sicuro con il 121. Con il 13 Mattei che è quarto in questo momento. Mentre scanalano poi tutte quante le altre moto. Stanno favorendo Brian perché il ritorno da parte degli altri da dietro. Perché ripeto quel tappo del quale stiamo parlando agevola. Poi il ritorno anche di quelli dietro. Sì. 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 Contatole ad esempio. Che è in questo momento set 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamma mia che confusione Andre. Sì. Cioè. Poi tra l'altro. Balboni ha perso tantissimo il sesto in questo momento. Mentre Mattei alle spalle di Tribuzzi che sta provando a sorpassarlo. Forse quello più continuo è Mattei che è sempre rimasto in quarta posizione. Eh sì. A questo punto sì. sto cercando di capire se Campagna si sta avvicinando perché mi sembra di vedere che si sta un pochettino avvicinando. Qualcosina. E mi sembra di rivedere come in altre gare quella parte di pista dove si avvicina e quella parte di pista dove si allontana. Stessa cosa nel gruppetto perché in realtà Tribuzzi, se è Tribuzzi, adesso voglio capire se sia lui perché Tribuzzi l'ha visto molto più dietro. Sì. Si sta allungando. Cioè il terzo sta allungando da quattro. Mamma che scodata da parte di Campagna. Come mai Andre? Eh sta cercando vuole andare a prendere a tutti i costi il primo. Ha dato il gas troppo presto a moto inclinata e gli si è messa di traverso. Mamma mia ha rischiato tantissimo. Sì. Molto. Non penso che abbia delle ripercussioni a livello di problematiche. No no. Che poi possano però possono condizionare questo giro dove si può allontanare Andre. Eh beh ha perso sicuramente. Qualche decimo l'ha perso effettivamente. A occhio sì. Tante gioie galloni. Ecco adesso potrebbe essere che quel doppiato faccia rallentare il primo. E possa avvicinarsi magari Campagna. Eh sì. Se riesce a passarlo veloce. Ecco vedi 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 vedi. Eccolo qui. Campagna Andre. Eccolo qui. Mamma mia. Vedi se l'hai trovato proprio dentro nella S veloce questo è un grosso problema. Però adesso lo passa. Ma ti chiedo. Quello è un doppiato però ti ha fatto perdere tanto tempo. Proprio nella S veloce ti può perdere un sacco di tempo. Che peccato. Anche perché che peccato nel senso fortunato. Meglio per galloni che ha preso ancora più spazio. Però stavamo raccontando. Mi raccontavi del problema che c'è tante volte con i doppiati. Mentre qua in perversa ancora la lotta per il terzo posto. Stiamo vedendo veramente tanto spettacolo. Non tanti sorpassi. Però Andre. Si studiano tanto. 121 tribuzzi. Eccola qui. Bandiera blu. La bandiera blu. Ma. Però adesso Galloni passa facile. Vediamo Campagna se si deve accodare. E questo è un grosso problema. Se lo trova ancora dentro nella curva. Altro problema ancora con Galloni che può scavare un ulteriore solco. Mentre Tato ne vediamo se riesce a sfruttare la scia. Alle spalle forse proprio di tribuzzi. Ha infilato Tato lì anche lui. Alle spalle clamoroso. Quello che sta succedendo in questa gara che è veramente interessantissima. Che sta mostrando soprattutto in questo caso tanto spettacolo. Forse qui deve mollare gli ormeggi. E invece no. Rientra all'interno con Tato che prova a sfruttare anche lui. Ci sono toccati quasi. Quasi con Tato. Non ci stiamo più capendo niente oggettivamente. Sì perché è tra i doppiati. Se ne stanno dando di santa ragione. Non riusciamo anche a interpretare quella che è la gara. Ricordiamo che la moto nera è quella di Tato Ligo numero 88. Il 16. Il 13 è Mattei. 18 è Balboni. Mentre qua siamo con Galloni che sta provando a scavare un solco. Mattei che si è un po' allontanato dai due piloti che vede di fronte davanti a sé. Entriamo nel nano giro. Eccoli qua. Ma Galloni campagna. È vicino a campagna. È vicinissimo. Secondo me assisteremo. Che si sia messo in testa di andarlo a prendere. Assisteremo a un finale incredibile. Ancora qui con Tato che prova a sverniciare il pilota di fronte a sé. E qui siamo di fronte a due doppiati Andre che si scansano per fortuna. Meno male. Meno male. Di Tato lì subito. Altrimenti avrebbero avuto lo stesso problema che ha avuto prima. Vediamo se Tato gli riesce a infilarlo all'interno. Ci prova. Vediamo se riesce a tenere all'esterno. Eccolo lì. Grande frenata. Ragazzi. Che bello stile. Oh quanto è vicino campagna eh. Sai che forse questo però non è campagna Andre. No. Siamo con Tribuzzi. Questo è campagna prima della Tribuzzi. Ok. Sicuramente si è avvicinato tantissimo a Galloni. Vediamo se riesce a stargli dietro. Se prova ad infilarlo. Mamma mia. Forse ci siamo Andre. Guarda qui. Forse ci siamo eh. Vediamo. No. Le telecamere giustamente hanno il comito e l'inconvenza di andare un po' da tutti. Mentre Tato gli viene nuovamente infilato forse dallo stesso Tribuzzi. Ma vediamo se gli rende pan per focaccia. Mamma mia. Sto perdendo la voce questa gara. Anche perché tra il fatto che sono una marea. Tra il fatto che sono stati doppiati. Eccolo qua campagna. Si è francomollato a Galloni. Vediamo che perché stiamo entrando nel finale. Nel giro finale. O lo fa qui. O lo fa qui. O non lo fa più. Ma lo fa. Lo fa. Ci prova. Ci prova. Ci prova. Ci prova. Ci prova. Ci prova. Si gira. Galloni. Campagna si infila. Vediamo se riesce a tenere. Tiene. 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 Si allarga. L'ha infilato. Campagna davanti a Galloni. Campagna davanti a Galloni. Prima posizione conquistata da parte di campagna. Attenzione. Che ci sono ancora dei doppiati in giro. Eh sì. Non riusciamo a vederli. Intanto Mattei qui che va a studiare. Mamma mia. Quanto esterno va. Quanto interno prova a rientrare sulla chicane. Quanto tempo e spazio perde. Anche se poi va a riprenderli. Ma qua abbiamo visto che sono veramente performanti. In altremoto riescono. Mentre si gode dalla sua camera. Lo spettacolo. Lo spettacolo di questi sorpassi. Con Paolucci. Che effettivamente sta facendo una gara splendida. E riesce ad infilare il diretto contendente. Paolucci va. Scavalca il diretto avversario. E prova a lanciarsi all'inseguimento. O addirittura perché no. A conquistare quello che potrebbe essere un po' di insperato. Mentre Galloni e Campagna. Ecco qua con Mattei. Che vede da lontano. I rispettivi avversari. Noi ci siamo completamente persi la lotta per il primo e per il secondo posto. Ma che andremo tra poco a rivedere. Un po' largo. Un po' largo. Un po' largo. Forse Tato lì probabilmente. Mentre stanno per finire. E vince. Eh sì. Campagna. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Galloni. Bellissima gara. Tra i due. Campagna Galloni. Mentre stiamo anche cercando di capire chi va a chiudere il podio. Andre. Abbiamo assistito ad una gara che mi ha fatto a perdere la voce. Esatto. Questo te lo dico. Mannaggia a voi. Come direbbe Buonguido Mena. Mannaggia a mannaggia. Ma tanta bagarre. Bravissimo Campagna. Sì. È stato bravo. È stato veramente bravo perché proprio all'ultimo giro andare a passarlo e poi tenere testa all'ultimo giro ha fatto davvero quello che doveva fare.